È stato difficile le prime due o tre partite, ambientarsi, nuovi ritmi, nuove cose, devo dire la verità, soprattutto ad esempio a Catanzaro ho sofferto un po', però andando avanti, soprattutto grazie anche ai miei compagni che mi consigliano sempre, mi stanno sempre vicini, sta andando sempre meglio. Abbiamo la fortuna di essere una squadra che si sa modellare facilmente, anche in base a come vuole il mister, però sta andando sempre bene e questo è importante. Soprattutto perché i risultati fanno morale, lo spogliatoio è unito come sempre, essendo anche che siamo tanti dall'anno scorso, siamo sempre stati uniti. Dobbiamo tenere i piedi per terra perché sappiamo tutti che poi possono arrivare a periodi difficili da un momento all'altro e dobbiamo approfittare anche del nostro periodo di forma in questo momento per portare il più possibile i punti a casa, che fa sempre bene e per il resto ogni partita la dobbiamo affrontare come se fosse una guerra, come se ci giocassimo tutto, perché noi questo dobbiamo fare.